Bacchetta magica. Quando parliamo di obesità pensiamo che sia sufficiente usare questa. Siamo convinti che l'obesità si possa sconfiggere con un colpo di bacchetta magica che invece io vado a rompere. E il perché del mio gesto simbolico? Lo chiedo a Maria Grazia Carbonali, direttore dell'unità operativa di dietologia e nutrizione al San Camillo Forlanini di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vuole spiegare ai nostri telespettatori che cosa ho fatto? Purtroppo non esiste una bacchetta magica per curare quella che è una vera e propria malattia, l'obesità. Per fare questo bisogna cambiare lo stile di vita e questo vuol dire scegliere dei giusti cibi per il nostro organismo ed aumentare l'attività fisica. E questo è il messaggio che quest'anno, il 10 ottobre, nell'Obesity Day viene dato in tutta Italia e quello di fare un primo passo per cambiare queste abitudini. Questa giornata del 10 ottobre si svolgerà in tutta Italia. Ci saranno 200 centri che daranno ai pazienti informazioni sulla giusta alimentazione, sulla buona attività fisica ma soprattutto indicheranno quali sono i centri a cui si possono rivolgere chi ha bisogno di perdere peso. Anche perché si dice, professoressa, che l'obesità sia la madre di tutte le malattie? Esattamente, l'obesità è alla base del diabete, alla base delle malattie cardiovascolari, della steatosi epatica quindi curando l'obesità noi preserviamo il paziente da queste complicanze oppure se ha già queste complicanze possiamo ridurre la terapia farmacologica di pazienti che usano farmaci per questi problemi. Abbiamo la possibilità di conquistare l'attenzione di chi ci guarda per porre l'attenzione su alcune cose che non dobbiamo sottovalutare? Sicuramente. Al primo posto io metterei la prevenzione che è di essere fatta a tutto campo, dalla scuola, alla famiglia e anche al lavoro perché tante persone mangiano fuori casa per problemi di lavoro. Poi la giusta informazione... Non mangiare qualsiasi cosa insomma. Esatto, scegliere le cose giuste. La giusta informazione è importante perché i pazienti non devono seguire dei falsi miti alimentari come spesso succede. È importante anche che l'industria ci aiuti a mettere sul commercio dei prodotti sani, buoni per la nostra salute a un giusto prezzo in modo che tutti i pazienti possano acquistarli. Ci devono essere delle strutture pubbliche a cui i pazienti si possono riferire su tutti i tipi di obesità, da quella semplice fino ad arrivare a quella più grave che magari ha bisogno di un intervento di chirurgia bariatrica. E poi speriamo che l'industria farmaceutica e la ricerca ci aiuti a trovare un farmaco sicuro che possiamo utilizzare a lungo termine perché l'obesità è una malattia cronica e serve per i pazienti ma serve anche per i medici che curano questa malattia che si trovano a curare una patologia senza farmaci. I chili di troppo non vanno mai sottovalutati, specialmente per i più piccoli. Assolutamente no, l'obesità infantile è un'epidemia nell'epidemia. Il bambino obeso quasi sicuramente sarà un adulto obeso se non viene curato dall'infanzia e bisogna sfatare il mito che il bambino obeso non ha complicanze perché le complicanze sono le stesse dell'adulto. Quindi se curiamo l'obesità da bambini sicuramente siamo più sicuri di essere poi adulti sani. Un consiglio per le mamme a casa? Per le mamme a casa l'educazione alimentare comincia proprio nella famiglia quindi con la scelta degli alimenti, con una spesa ragionata e nel coinvolgere anche i bambini nel spiegare le ricette e nel spiegare il tipo di alimentazione che si fa. Aiutarli a conoscere quello che mangiano? Esatto. www.obesityday.org è il sito di riferimento per raccogliere tutte le informazioni necessarie per saperne di più su questa campagna di sensibilizzazione. Antonia ci sono delle domande? C'è tantissimo interesse per questi argomenti che abbiamo affrontato abbiamo delle domande per ciascuno dei nostri ospiti iniziamo dal dottor Desiervi scrive Raffaele da Lucca si può sostituire un vecchio stand con uno di nuova concezione? No, direi che non è assolutamente indicato fare una cosa di questo genere perché lo stem metallico viene riassorbito una volta che è stato impiantato viene riassorbito nella parete del vaso e quindi se ha fatto bene il suo lavoro e la placca è stata dilatata ed è bene in sede non ha senso sostituirlo nel caso che il paziente abbia una recidiva di malattia e si presenti una placca in una sede diversa si può pensare di utilizzare il nuovo tipo di stand ma sostituire un vecchio stand con uno di questo tipo non è consigliabile Per la dottorista Carbonelli scrive Marta di Torino e chiede ci sono sviluppi nella dieta in base al DNA? Sicuramente la nutrigenomica è un futuro abbastanza vicino ci sono degli studi che ci mettono in evidenza che l'impatto del cibo sul nostro organismo dipende dai nostri geni quindi studiando un po' meglio questa metodica forse possiamo scegliere l'alimento in base a cosa ci fa meglio e a cosa ci fa peggio Benissimo, allora non ci resta che ricordare il sito internet www.obesityday.org l'appuntamento con la medicina è per domani adesso TG1 Grazie